Ci siamo! Attenzione, il barzellettiere di Lucca sta per tornare. È tutto pronto per la quarta edizione di Mi Fai Sganascià, la competizione che incorona il miglior barzellettiere della provincia, organizzata da Anfas con il sostegno di Noi TV e Rete Versilia News. Dopo il grande e crescente successo delle prime tre edizioni, si riparte dall'eliminatorio per selezionare gli aspiranti campioni. Due gli appuntamenti con le semifinali, venerdì 2 giugno a 21.15 a Lunata, nella Sala dei Donatori di Sangue Giannini, e venerdì 23 giugno, sempre alle 21.15, sul palco del Giugno Porcarese in piazza Felice Orsi a Porcari. Sempre ad ingresso gratuito per il pubblico. Noi TV e Rete Versilia News registreranno le serate e le trasmetteranno integralmente nei giorni successivi. Nata nel 2014 per incoronare il miglior barzellettiere di Lucca, Mi Fai Sganascià ormai una manifestazione di respiro regionale. In sole tradizione ha richiamato centinaia di persone che hanno partecipato alle varie serate, nei ristoranti e nei teatri. Non solo le famiglie dei ragazzi seguiti da Anfas Lucca, ma soprattutto tantissimi cittadini, che grazie alla manifestazione hanno avuto modo di conoscere da vicino i tanti progetti di integrazione e socializzazione promossi dall'Associazione Lucchese. Il barzellettiere infatti è nato proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al mondo della disabilità intellettiva e relazionale e creare un'occasione di inclusione e di relazione leggera è aperta a tutti. L'iscrizione per concorrere è gratuita. Per informazioni sul concorso e per iscriversi è sufficiente chiamare 393 2911 37 o scrivere a barzellettiere lucca chiocciola gmail.com